Piacenza perde altre aziende, 264 imprese in meno in un anno, la maggior parte nel settore delle costruzioni, male anche agricoltura e commercio, meglio il turismo. Bullismo a scuola, un bambino delle elementari sarebbe stato oggetto di graffie e violenze da parte dei compagni di scuola, forze dell'ordine indagano. Unioni civili, piacentini divisi, molti d'accordo con il riconoscimento dei diritti per tutti, ma a creare dubbi sono soprattutto le adozioni.